E' al mecenatismo del mondo imprenditoriale e produttivo che fa appello il drappello di persone che ha raccolto la disponibilità dello scultore Vangi di portare a termine il progetto per la fontana di Piazza Amiani come gesto di ringraziamento per l'accoglienza della città di Fano avuta in occasione della sua personale che ha inaugurato Palazzo Bracci Pagani e visitabile fino a domenica 2 ottobre. Il costo dell'operazione è di 170.000 euro che servirebbe però solo per coprire le nude spese di realizzazione e messa in posa della scultura, la fonte della vita e per la quale il noto scultore non riceverebbe alcun compenso artistico e che sostituirebbe la presente colonna al centro della fontana nei giardini della memoteca. Avere un'opera di questo tipo significa impreziosire la città, significa valorizzare un luogo come Piazza Amiani che con la memoteca ha acquistato molte presenze, ha acquistato valore e quel luogo va ripensato. Ma questo significa dare un valore nel suo insieme alla città tutta. L'appello nasce proprio dalla possibilità di coinvolgere istituzioni e mondo imprenditoriale, quelli che hanno più fondi, per poterla realizzare. Ti fosse interessato dove può? Ma può contattare me, mi trovano su internet, basta guardare Dante Piermattei, c'è il sito, tutto quanto, l'informazione, il numero telefonico. Vangi quindi è venuto a Fano e ci ha portato questo bozzetto di una fontana che doveva essere fatta a Fano nel 1994 e che poi non si è fatta più. E ha riproposto di realizzare la stessa fontana, la stessa, nello spazio antistante della mediateca. È un'occasione che secondo me la città non dovrebbe perdere.